ciao ragazzi grazie di essere con me oggi oggi voglio fare un video veramente semplicissimo ma per me veramente d'effetto voglio unire due trigger che adoro tantissimo chi sono? l'avrete letto dal titolo il brushing microphone e il don't click in generale metterò anche qualche altro mio mouth sound tipo ros però principalmente il doodling e ci aggiungerò anche qualche penso più trigger word che chiocchie liesse ultimamente sono veramente in fissa con il Big Brushic sul Blue Yeti quindi vuoi deciso di dedicargli un video? e ho diversi pennelli come 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 di voi sapranno o avranno 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 notato 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 e ieri venerdì venerdì ma sono riuscita a trovare 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 un pochino di tempo stamattina sabato quindi spero che questo video sarà online per oggi pomeriggio ok per ora sb sb ok questo è un po' più semplice sono quelle che mi rilassa di piccolare e ogni tanto mi piace il rumore e un po' un po' un po' come back, come back, come back, come back come back retorno alle origini ok Grazie a tutti. 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 Io mi sto rilassando tantissimo, tantissimo. Grazie a tutti. 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 Ok. Buona 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 bu per il weekend, quando sono belli dopo pranzo buona notte sweet dreams buona notte si svegli buona notte buona notte buona notte, pasticcini mi faccio bene? buona notte bacione che li spera buona notte